Petrungaro, appena arrivato già tesserato un giocatore sul quale Modica punta parecchio. Sono contentissimo di essere qui, è un onore vestire la maglia del Messina e non vedo l'ora di scendere in campo e giocare in questo stadio. Le tue caratteristiche, presentati ai tifosi del Messina. Io sono un esterno d'attacco, comunque la mia forza è la gamba, uno contro uno, e quest'anno deve essere un anno decisivo sia per me che per la squadra. Sei arrivato da poco qui nel riviro di Zafferana, però che gruppo hai trovato? Un gruppo sano, tutte le persone per bene, ti fanno voglia di allenarti, si sta alla grande. Conoscevi i modi che ha i suoi metodi di allenamento, c'è da lavorare? Non li conoscevo ma li sto cominciando a conoscere, quindi no no, ma fa bene, dobbiamo lavorare e ci leveremo grandi soddisfazioni.